Dico no al tunnel autostradale del San Gottardo per proteggere il Ticino e specialmente l'intero soprasceneri. Un raddoppio del tunnel comporterebbe un alto rischio di aumento del traffico di solo transito lungo tutto il nostro paese. Per di più costituirebbe un rischio di svilire una delle opere più grandi eseguite nel nostro paese negli ultimi decenni, Al Transit, opera lodata e citata più volte all'ultimo meeting di Parigi sulla protezione del globo e opera invidiataci un po' da tutta Europa. Centinaia di pubblicazioni scientifiche hanno dimostrato inequivocabilmente il nesso tra inquinamento atmosferico e danno alla salute. Lo Stato della California ha promulgato recentemente una legge che obbliga nel caso di costruzione di case anziani o di asili di infanzia a mantenere una distanza obbligatoria minima dai percorsi delle autostrade proprio per il potenziale danno alla salute. I morti che avvengono nei tunnel sono terribili, ma la miglior maniera di evitare tali morti è quella di trasferire il traffico pesante dalla strada alla ferrovia. Ma l'inquinamento atmosferico provoca molti più morti che quelli che avvengono nel tunnel, più morti e più malattie. Cito ad esempio l'asma, l'insufficienza cardiaca, l'infarto miocardico o l'ictus cerebrale. Sono dei morti, sono delle malattie dove il rapporto causa-effetto è meno evidente, ma è assolutamente incontestabile. Un po' quello che succede con il fumo passivo e gli svizzeri qualche anno fa hanno ben capito il nesso tra questo danno e la salute. I ticinesi e gli svizzeri hanno capito il rischio in ballo e vogliono evitare un incremento dell'inquinamento legato al raddoppio.